Ciao ragazzi e ragazze, che dire, che dire, che dire. L'approccio della Dea è stato buono, molto buono, nei primi 20-30 minuti. Poi è arrivato l'errore di Sportiello, veramente imperdonabile, che ha cambiato totalmente la partita. Ha cambiato totalmente la partita. Già il livello tecnico, il tasso tecnico, era nettamente inferiore, perché era inutile nasconderlo, è molto più forte rispetto all'Atalanta. Ma se in più ci mettiamo nel nostro che regaliamo i gol, allora ragazzi è giusto che ce ne andiamo a casa, perché anche il secondo gol del calcio di rigore è figlia di un errore, dell'ennesimo errore di Ilicic di questa stagione. E lì la partita, ragazzi, è finita. Anzi, chiedo scusa se ho chiuso anzitempo la live, ma non aveva più senso andare avanti, ragazzi. Mi si era mosciato veramente tutto, 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 tutto. Che dire, la Dea ci ha provato, ci ha provato, ragazzi. Era riuscita a fare anche il 2-1, per dare quel briciolo, briciolo di frio, briciolo di friolo, di friolo, di friolo. E poi dopo un secondo il Real Madrid ha fatto il 3-1 e l'ha portata a casa. Ragazzi, purtroppo questi qua a centrocampo, a centrocampo cantano messa, cantano messa a Modric. Che partita ha fatto Modric? Questi sono grandi calciatori, cross. Cioè, al centrocampo, ragazzi, ve l'ho detto un miliardo di volte, loro hanno Modric e noi abbiamo l'estero e l'Ibetancur. E poi ci chiediamo perché facciamo schifo in Europa. Loro hanno cross e noi abbiamo Rabiot. Cioè, ragazzi, cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? Questa è una serata molto triste perché la Champions, per quanto riguarda la Champions, è finita, è finita, ragazzi. Non c'è rimasta nessuna squadra italiana perché anche la Lazio è domani. Io, con tutto il bene che gli voglio, cosa deve fare? Cosa deve fare? Cosa deve fare? Cosa deve fare? E questo ci deve fare riflettere molto sul valore di questo campionato perché se l'Inter, prima in classifica, esce ai gironi, la Juventus, terza in classifica, anche se deve recuperare sta cazzo di partita, esce con una squadra mediocre come il Porto, l'Atalanta, quarta, quello che è, mi sembra sia quarta, esce agli ottavi, la Lazio, vabbè, è molto più indietro, è già uscita con il Bayern Monaco, cioè, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cioè, il nostro campionato, ormai, è equivalente a quello polacco. Sì, 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 ragazzi. Non sto dicendo una bagianata, è equivalente a quello polacco, perché se dicessimo equivalente a quello francese, offenderemo il Paris Saint-Germain, ragazzi. Ormai da noi calciatori vengono a fine carriera, Ronaldo e Ibrahimovic vengono a rubare lo stipendio e a finire la carriera, perché questo è, questo è, questo è, ragazzi, è brutto dirlo, è veramente brutto dirlo, ma questo è. E se non cambiamo mentalità e visto che non ci sono soldi, non cominciamo a lanciare qualche giovane, perché l'unica speranza è per uscire da questa situazione, la vedo grigia, ragazzi. Io penso che passeranno, non anni, non anni, ma secoli, prima che una squadra italiana possa non dico vincere alla Champions, ma arrivare a competere a queste competizioni, gente. Lo si è dimostrato questa sera, l'Atalanta ce l'ha messa tutta, ma il divario tecnico è enorme, ragazzi, enorme e considerate anche che l'Atalanta è una delle squadre che gioca meglio, gioca uno dei migliori, il miglior calcio, forse, in Italia, quindi questo fa da pensare, gente, fa da pensare, perché il Real Madrid ha giocato, sì e no, a un 20-30% delle sue possibilità. Non si è manco impegnato più di tanto, secondo me. Era molto tranquillo, molto easy, perché tanto era sicuro che la partita l'avrebbe portata a casa. Ragazzi, io, boh, fa tristezza, fa tristezza, perché non riusciamo a competere a certi livelli, ragazzi, purtroppo è così, è così. Ripeto, non so quanti anni passeranno, ma penso tanti, penso tanti, penso tanti, ragazzi, penso tanti, penso tanti. È così, è così. Va bene, dai, like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, dalle notifiche su tutte, e comunque, fino all'iscrizione, forza, iuvi. Grazie. Grazie.